Prima non l'ho detto, abbiamo impiegato un attimo, ci siamo sentiti telefonicamente dopo la finale di Supercoppa con il signor Longarini, ci siamo incontrati con Vittorio a Roma dove è stato un bellissimo incontro, abbiamo trovato subito l'accordo, è 4 anni da allenatore, 2 anni da calciatore che lavoro con questa famiglia, con questa proprietà, quindi c'è stata subito la massima fiducia da parte della proprietà nei miei confronti e mia nei loro confronti, perché so in questi 6 anni come si è comportata con me e come ha lavorato. Siamo partiti venerdì con una riunione con l'amministratore delegato e subito dopo con il direttore Cozzella che conosco benissimo e lui conosce benissimo come lavoro io e le mie esigenze, è palese che numericamente, diciamo perdere i 18, siamo abbastanza pochi, è palese che il reparto di centrocampo tranne Palumbo è abbastanza scoperto, è palese che il ruolo di terzino destro è scoperto, hai perfettamente ragione che sono quelli i ruoli e le priorità in questo momento. Ho la massima fiducia nell'operato tecnico di Vittorio e della società dal punto di vista della strutturazione dell'organico che sia il 9, che sia il 31, ma ho la piena fiducia che si inizierà un percorso e quello che mi auguro sia il più bello possibile, indipendentemente dai risultati che si otterranno, ma per la coesione e per l'entusiasmo che riusciremo a creare. Grazie mister. Grazie a voi. A margine della conferenza stampa di presentazione dello staff tecnico e della campagna abbonamenti siamo con Vittorio Cozzella, direttore sportivo della Ternana, al quale rivolgiamo subito la prima domanda. Direttore, c'è stata questa settimana questo summit con mister Toscano, mister Toscano prima faceva riferimento a dei ruoli scoperti, quali sono un po' il focus che avete fatto in termini di possibili soluzioni, in termini di acquisti? Beh, è chiaro ed è evidente che ci sono oggi attualmente 18 giocatori, tra cui ci sono parecchi ragazzi che l'anno scorso giocavano con la primavera, che li stiamo valutando e quindi ci vuole un altro po' di tempo per vedere poi se possono far parte di questa rosa oppure magari rimandare di qualche mese. È chiaro che ci sono dei ruoli che sono scoperti, c'è evidente il centrocampo, l'esterno a destra o basso e quindi con il mister sono un paio di giorni che abbiamo avuto delle vedute su questa posizione dei ragazzi e abbiamo messo giù un programma e abbiamo mandato tutto alla società che poi adesso valuteranno e ci daranno indicazioni di come muoverci. Da un punto di vista prettamente di tempistica, quando pensa che ci potranno effettuare le prime operazioni in entrata? Beh, noi per quello che gli abbiamo consegnato credo che qualcosa si potrebbe fare anche subito e adesso l'ok lo dovranno dare loro e ripeto qualcuno subito, immediata, qualcun'altra dovremmo di nuovo parlarci, incontrarci per stabilire magari perché c'è qualcosina ancora da animare. Parlando di nomi, se non sbaglio ha fatto riferimento a Furlan, Rigoni e il ritorno di Gianze. Situazioni ancora in auge, posti in essere, c'è la possibilità di poter acquisire i cartellini calciatori? Ma no, in realtà dei cartellini diciamo che questi sono obiettivi che noi ci siamo prefissati. Ci auguriamo che se ci viene dato l'ok di questi di portarli in porto prima possibile. Ci sono degli altri, chiaramente diventa un po' più complicati e più difficili perché appartengono a società di Serie A e quindi dovremmo fare un lavoro diverso. Però se si arriva ad un'intesa comune, poi ci vuole poco per mettere a posto una rosa che poi potrebbe essere quella che può affrontare la stagione che stiamo vivendo. Oggi, come è ben noto, la Ternana è l'unica compagine della Serie Cadetta a non aver effettuato delle operazioni in entrata. I tifosi naturalmente sono anche comprensibilmente preoccupati. Che cosa si sente di dire in merito? Ripeto, dopo quattro anni oggi è cambiato il Presidente, è cambiato l'amministratore e quindi è cambiata una linea di società. Ci sono delle esigenze diverse, delle direttive diverse e quindi bisogna entrare in sintonia con questa nuova dirigenza. È chiaro che magari quando si va a gestire ognuno pensa di gestire nel migliore dei modi e magari danno delle direttive diverse. Questa società si è imposta questo. Lo sta facendo, lo sta mettendo in atto e noi chiaramente bisogna seguire le direttive. Mi auguro che al più presto questo possa snellire un po' questo protocollo e arrivare al dunque. Quello che poi interessa un po' a tutti, al direttore, all'allenatore, allo staff e soprattutto ai tifosi che chiaramente si aspettano qualche volto nuovo. Per quanto riguarda invece la questione di Filippo Avenatti, prima Simone Longarini ha detto che è un giocatore della Ternana. Come stanno le trattative in merito? Si parlava di Cagliari, si parlava di una possibile soluzione inglese. C'è qualche novità in merito? Ma Filippo Avenatti ha molte richieste. È un giocatore che si è messo in evidenza, secondo me può fare ancora meglio rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso ed è un giocatore importante. Beh, se rimane da noi che tutti siamo felici, però per lui gli auguro che possa magari andare in qualche club che potrebbe rendere magari anche lui mettersi in evidenza per arrivare a livelli importanti e io lo auguro e se lo merita. Ok, la ringrazio. Ciao, grazie. È da poco terminata la conferenza stampa di presentazione di Domenico Toscano e del suo staff. È stata inoltre presentata la campagna abbonamenti per ciò che concerne la stagione che sta per arrivare, stagione 2015-2016. Tra le novità in arrivo, come già stato sottolineato nella conferenza stampa stessa, ci sarà la possibilità per le donne di poter fruire di un abbonamento a prezzo ridotto per tutti i settori che ha un costo di 60 euro e questo probabilmente è l'aspetto più di riferimento che volevamo porvi in essere. In questa conferenza stampa sono intervenuti Simone Longarini, Stefano Domenici, rappresentante del Consiglio di Amministrazione, Vittorio Cozzella, il direttore sportivo della Ternana, lo staff tecnico composto del mister Toscano e responsabile appunto della stampa dei locali. È trapelato poco da quanto potete vedere dalle riprese della conferenza stampa per quanto riguarda la sessione di mercato che la Ternana deve ancora iniziare a sviluppare in termini trattative di acquisti e di cessioni. Abbiamo quindi deciso di proporvi una sorta di riepilogo per ciò che concerne l'organigramma, l'organico o tecnico che il mister Toscano ha portato qui nel ritiro di Norcia. La Ternana appunto si compone di 18 calciatori che sono stati portati nel ritiro, si compone appunto di due portieri che sono Sala e Gava, dei difensori Masi, Meccariello, Valiant, Buoninsegni, Massimi e Gagliardini, dei centrocampisti Palumbo, Tascone, Vitale e Falletti, degli attaccanti Duganzic, Ceravola, Venatti, Salvemini, Russini e Taurino. Come si può evidenziare dalla videata, l'unico acquisto è quello relativo a Marco Duganzic, anche se non è stato ancora ufficializzato il suo passaggio, dato che nella scorsa sessione di gennaio era stato prelevato con la formula del prestito con diritto di riscatto, probabilmente la sua presenza e ritiro comporta l'acquisizione del cartellino da parte dell'attaccante croato. Non sono state effettuate cessioni, mentre per ciò che concerne i giocatori che sono stati posti a fine contratto, come si può vincere appunto, c'è Fazio, che ora si è accasato al Travani, Jansse, che potrebbe essere uno di quei calciatori che riabbraccerà la maglia rosso-verde, Ferronetti, Diandà, anche quest'ultimo potrebbe tornare in auge come una possibile soluzione nel mercato in entrata, Milinkovic e Bocinov, che sta giocando i preliminari di Champions League con il partenza di Belgrado. Ci sono anche dei giocatori fine prestito, come si può appunto vedere. Si fa riferimento a Luca Greco, che è in prossimità di accordarsi con il Pescar, è tornato comunque per fine prestito alla Lazio. Mirko Eramo, tornato alla Sampdoria, ma che dovrebbe aggregarsi al Travani nelle prossime ore. Si fa riferimento a Giuseppe Russo, che è tornato a Lumezzane. A Davide Cavazzi, che ora andrà a comporre quei due terzi del centrocampo 2013-2014 sotto la gestione d'SR, è riabbracciato lo stesso allenatore di Montebelluna. E Marco Piredda, che ha iniziato la nuova avventura nel Lega Pro Unica con la Roburziena. Ci sono due risoluzioni di comproprietà, come è noto. La Ternana ha riscattato il cartellino di Simone Russini, che si trova in ritiro, mentre Nicola Sviola è tornato al Palermo. Parliamo dei possibili acquisti che la Ternana potrebbe effettuare nei prossimi giorni. Soluzioni che riguardano, come ha già sottolineato Mr. Toscano, nella conferenza stampa. C'è un reparto interamente da completare, il reparto di centrocampo. Dato che c'è la compresenza del solo Antonio Palumbo. Ci sono appunto degli elementi che i rumors di mercato accostano alla formazione Rosso Verde. Nella fattispecie si fa riferimento a Nicola Rigoni, nell'ultima stagione e mezza in forza al Cittadella, che è ritornato al Chievo per fine prestito. È un calciatore classe 1990 che può avvantare circa 100 presenze abbondanti in serie B, anche con le maglie di Regine Vicenza. È un regista che dispone anche di buona tecnica. Ha segnato tre gol in questa stagione. Uno di questi, i tifosi delle Fere se lo ricorderanno, in un inserimento centrale interna alla Cittadella dello scorso primo novembre 2014. Oltre a Nicola Rigoni, un altro nome caldo è quello relativo allo svincolato Luca Mazzoni. È un portiere classe 1984, nell'ultima stagione in forza al Livorno, dove ha disputato 41 presenze, subendo 47 gol. È un portiere, come detto, svincolato perché il 13 luglio scorso la società labbronica ha provveduto la risoluzione contrattuale. Un altro nome appunto in auge è quello di Jansi Jansi. Come abbiamo detto in precedenza, Jansi Jansi è un terzino destro che lo scorso anno ha disputato 20 partite con la casacca della Ternana. E' un altro nome appunto molto sul quale appunto si fa riferimento, gli abitetti ai lavori media fanno riferimento, è quello relativo a Federico Furlan. Anche in questo caso è un esterno destro, classe 1990. Nell'ultima stagione ha disputato 41 partite, 3 gol in forza al Bassano. Con i giallorossi è arrivato fino alla finale della Lega Pro, disputata con il Como, che poi ha permesso ai lariani di tornare in Serie B 11 anni dopo dall'ultima partecipazione, nello specifico 2003-2004. Esterno destro che sa anche fare la doppia fase, fase offensiva e fase difensiva. Come detto appunto è un calciatore svincolato sul quale ha messo gli occhi anche il Lecce, la squadra che sta allenando Antonino Vasta, suo tecnico che ha avuto nella stagione passata. Queste sono le trattative di mercato. Infine diamo un occhio alle prossime scadenze. La Serie B nei prossimi giorni svelerà molti delle sue possibili scenari che si potranno poter rinnessere per ciò che incongerà nella stagione in arrivo. Prima di tutto la questione relativa al ripescaggio. Entro il 27 luglio si terminerà il processo di ripescaggio che molto probabilmente premierà il Brescia e sarà il Brescia la 22esima partecipante al prossimo campionato di Serie B. L'unica discriminante è legata al possibile coinvolgimento della Leonessa nell'inchiesta Treni del Gol. Nell'ultima indiscrezione, l'ultima ora sembra che il Brescia non sia indagato comunque sia società e quindi molto probabilmente entro il 27 luglio la Lega ufficializzerà il ripescaggio della compagine Lombarda. C'è anche da sottolineare un altro aspetto molto importante che ha congelato la società Lombarda, ha congelato una serie di operazioni una su tutta quella relativa all'attaccante Matteo Mancoso che si concretizzerà solo dopo l'avvenuto ripescaggio. Come sappiamo c'è Roberto Boscaglia, allenatore del Brescia che ha avuto Matteo Mancoso e l'ha lanciato nell'elite del professionismo. Un'altra questione molto importante è quella relativa alle reammissioni. Come è noto, nei giorni scorsi Stefano Palazzi ha concluso le indagini relative al primo filone relativo all'operazione di Irti Soccer dove è convolto il teramo. Le scadenze sono queste. Entrometà della settimana prossima tutte e due le inchieste porteranno i deferimenti. Si parla di circa 40 differimenti e di circa una decina di squadre coinvolte. Due di queste sono appunto Catania per quanto riguarda il termine del gol e Teramo per quanto riguarda Irti Soccer. Attenzione perché entrambe le squadre rischiano la retrocessione non dal campionato che è appena terminato. Quindi il Teramo rischierebbe la retrocessione dal campionato di Lega Pro e il Prescia rischierebbe la retrocessione, scusate, il Catania rischierebbe la retrocessione dal campionato di Serie B. E quindi essendo appunto retrocessi, di conseguenza per responsabilità diretta qualora sarà scritta la responsabilità diretta, qualora sarà comportata, verificata e ascritta la responsabilità diretta, successivamente ci sarà la riammissione. Nello specifico si dovrebbe fare riferimento alla Virtus Centella e all'Ascoli. Le scadenze, come dicevo, in metà della settimana prossima partiranno i riferimenti. Tra il 3 e il 9 agosto prossimo si dovrebbe concludere il processo di primo grado riguardante l'operazione appunto di Irti Soccer e di conseguenza anche su quella successiva, realità del treni del gol. Entro la fine del mese di agosto si dovrebbe concludere il processo di secondo grado che dovrà accertare definitivamente le responsabilità e quindi comportare eventuali riammissioni delle squadre che abbiamo evidenziato in precedenza.